L'amministrazione comunale di Reccovara un ulteriore ribasso su Via Roma 51, Palazzo in centro, che dal 2013 è in vendita all'asta. Un ribasso che ammonta più di un milione di euro, ora lo si può acquistare con circa 2 milioni e 200 mila euro. Perché questa decisione? La decisione è legata ai valori di mercato oggi di questi immobili. Purtroppo era uno stabile questo da vendere, probabilmente alienare, nel corso dei primi anni 2000, dove il valore sicuramente sarebbe stato molto superiore. Tuttavia abbiamo pensato di ricorrere all'Agenzia del Demanio, che non è riuscita a venderlo sulla sua vetrina questo bene, e quindi di chiedere una perizia all'Agenzia del Demanio, che diventa insindacabile, sul valore di mercato ragionevole per questo immobile. Ci è stato fornito l'indicazione di venderlo a base di 2 milioni e 200 mila euro. Noi ci auguriamo che nel giro di un mese e mezzo si andrà al bando di alienazione, qualora il Consiglio Comunale lunedì approvi questa delibera, e poi ci siano più interessati eventualmente che fanno crescere il valore dell'immobile e portino a casa altre risorse per il Comune di Lecco. Abbiamo bisogno di questi fondi assolutamente per finanziare altre opere pubbliche.